con la registrazione perfetto allora buongiorno a tutti e ben ritrovati siamo sempre nell'ambito del ciclo di video interviste che la federazione disability management ha voluto realizzare con vari esperti nel mondo della disabilità per parlare un po' e confrontarci su vari temi che riguardano l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e varie altre tematiche che possono essere di interesse o riguardare la figura invece del disability manager. Oggi abbiamo qui con noi l'onorevole Giuseppina Versace che ringrazia innanzitutto per essersi resa disponibile a parlare con noi l'onorevole Versace è componente della commissione affari sociali della camera dei deputati ed è anche atleta paralimpica quindi affronteremo con lei sia gli aspetti che riguardano l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità che le recenti riforme del mondo dello sport invece paralimpico. Io vorrei iniziare un po' dagli stessi argomenti che abbiamo affrontato anche al convegno realizzato a novembre e ripresi poi nell'intervista con l'onorevole Noia cioè come lei pensa che si possa agire da un punto di vista di iniziativa legislativa e politica per favorire l'inclusione delle persone con disabilità e anche un po' dare attuazione a tutte le normative che sono state emanate sul disability manager ma che purtroppo non sono state accompagnate dai necessari decreti attuativi. Grazie. Ma guarda intanto grazie a te per la sensibilità io quando posso su queste tematiche insomma trovate in me un'alleata peraltro citato l'amica Lisa Noia che insomma oltre a lavorare insieme noi collaboriamo tantissimo pur appartenendo a dei gruppi differenti quindi questa è la dimostrazione che anche su alcune tematiche la trasversalità dà anche una grande accelerata a tante iniziative necessarie per la quotidianità di tanta gente purtroppo rimasta indietro poi quest'anno legato un po' anche alla pandemia ecco a pagarne il prezzo più caro forse ancora una volta sono proprio le persone con disabilità e anche le donne se vogliamo. Io francamente sono innanzitutto una sostenitrice la figura del disability manager però andrebbe fatta anche un po' di chiarezza attorno a questa figura perché mentre all'estero si sono già da tempo organizzati ed è anche chiara una job description sanno bene chi è cosa fa in italia sotto questo punto di vista c'è ancora molta confusione detto bene ci sono le delle norme che hanno un po' disciplinato in qualche modo questa figura però vanno ovviamente accompagnate dai decreti attuativi che ancora mancano e che devono anche dare una linea una job description appunto di chi è il disability manager perché in realtà in italia assistiamo delle situazioni anche un po' a macchia di leopardo perché ci sono alcune amministrazioni comunali che si sono organizzate in autonomia e ci sono delle realtà private che in qualche modo investono in questa figura però a volte si fa la confusione di abbinare la figura del disability manager a quello che invece poi garante dei diritti delle persone disabilità che sono due figure totalmente diverse secondo me il lavoro principale che va fatto e soprattutto culturale bisogna innanzitutto educare la gente ad approcciarsi anche con naturalezza ad abbracciare queste figure nuove che possono essere un'opportunità e non un peso un obbligo non perché c'è una norma che come dire in qualche modo disciplina questa figura o invita gli imprenditori e le amministrazioni pubbliche ad avvalersi di questa figura in realtà questo va come dire colto come un'opportunità perché sostanzialmente la figura del disability manager è colui che in qualche modo accompagna e il lavoratore e l'azienda per cercare di mettere in risalto tutte quelle che sono invece le abilità e le qualità della persona che hanno in qualche modo assunto comunque preso in organico ed è importante secondo me questo passaggio perché non è colui che si impegna a far rispettare i diritti delle persone con disabilità ma è colui che aiuta l'azienda o l'amministrazione comunale a comprendere non solo quelle che sono le leggi che tutelano però anche quelle che possono essere le opportunità che questa figura il contributo che il lavoratore con disabilità può dare all'azienda stessa o all'amministrazione insomma io poi non posso non fare tante volte anche l'esempio mio personale no perché a volte si fa l'errore di pensare alla persona con disabilità in qualche modo anche come un peso e non come una risorsa io dico spesso che tante volte dipende molto dal tipo di disabilità no ho tanti amici ciechi che lavorano in piena autonomia e danno dei contributi importanti anche delle persone sorde che conosco che sono assolutamente come dire ben amalgamate nell'organico di aziende o nel caso mio che ho perso le gambe in un incidente stradale io ho dovuto lottare per anni con i miei capi di allora per ricordare che io avevo solo perso le gambe non avevo perso i neuroni che quindi il mio cervello era assolutamente operativo ed era assolutamente in grado di continuare a dare un contributo all'azienda e principalmente un fattore davvero culturale quindi io credo che bisogna in qualche modo anche cercare di intanto istruire meglio anche già dalla scuola aiutare i ragazzi a comprendere non solo le nuove tipologie lavorative ma anche i comportamenti gli atteggiamenti l'approccio no perché tanto più inclusiva una società quanto più la persona con disabilità trova spazio per poter in qualche modo anche buttare giù contribuire agli stesso a buttare giù quelle barriere che non solo soltanto architettoniche ma spesso sono culturali sì è vero hai assolutamente ragione ecco da questo punto di vista tu giustamente dicevi prima c'è una una pletora di professionisti con formazione di vario tipo che operano come disability manager perché c'è stata finora sicuramente poca chiarezza anche da un punto di vista di descrizione di questo profilo e delle competenze che deve avere ad oggi lo ha fatto solo regione lombardia di fatto tu come pensi che dovrebbe essere delineata meglio questa figura anche partendo un po dall'esperienza che hai visto all'estero guarda principalmente va fatta chiarezza quindi certamente serve una linea guida nazionale serve comunque che il decreto attuativo che accompagna il riconoscimento che attua poi di fatto il riconoscimento anche giuridico se vogliamo di questa figura ma che ne delini chiaramente il ruolo proprio perché come dicevo prima regna il caos nel senso che tante realtà vantano di avere all'interno questa figura del disability manager che però poi di fatto in qualche modo va a sostituire quella che è la figura del garante dei diritti delle persone di disabilità quindi secondo me tanto più chiaro il messaggio quanto più chiara è l'opportunità che viene offerta alle aziende alle pubbliche amministrazioni secondo me queste sono delle figure che sono assolutamente formate istruite preparate non solo sotto il punto di vista giuridico perché devono conoscere le norme però hanno un grande ruolo quello di di essere un po mediatori e con l'azienda e con il lavoratore perché anche il lavoratore stesso tante volte ha bisogno di essere accompagnato e guidato e se c'è una figura assolutamente come dire riconosciuta preparata che possa essere anche un punto di riferimento fa sentire il lavoratore anche meno meno immarginato meno solo perché poi ricordiamo pure che c'è una legge per cui molte aziende che private hanno in qualche modo l'obbligo di assumere le persone cosiddette categoria protetta no tante addirittura preferiscono la sanzione piuttosto che adeguarsi alla normativa e anche quando lo fanno sembra una roba che siccome la devo fare per legge lo faccio e non riescono a comprendere che grande opportunità e che risorsa importante può essere anche il lavoratore con disabilità perché una persona una disabilità vuol dire che deve essere necessariamente meno produttivo perché dobbiamo ricordarlo soprattutto chi segue poco le dinamiche o comunque le cose legate al mondo della disabilità che la disabilità è un ventaglio vastissimo ci sono disabilità e disabilità ci sono quelle gravissime che ovviamente ti rendono anche inabili al lavoro ma c'è tutto un mondo di persone disabili che hanno voglia di dare il proprio contributo alla società e che hanno solo bisogno di un'opportunità hanno solo bisogno di persone attente sensibili e che abbiano voglia comunque di dare un contributo proprio per agevolare l'inclusione sociale e lavorativa di queste persone che possono assolutamente contribuire anche alla crescita economica del nostro paese ci sono esempi illustri di persone di scienziati e figure che hanno veramente segnato la storia che vivevano con una disabilità e che hanno fatto qualcosa di grande e importante il problema per me rimane sempre comunque culturale se ne parla poco adesso devo dire le cose un pochino stanno cambiando ci sono delle realtà anche come la vostra quindi vi ringrazio pure per questa opportunità che comunque aiutano a tenere accesi riflettori e credo devo dire faccio anche proprio un appello a tutti i colleghi parlamentari serve proprio più attenzione anche del parlamento e della politica stessa perché non si può utilizzare la disabilità come uno spot da campagna elettorale a chiappavotti bisogna poi comunque tenere accesi riflettori e lavorare concretamente su queste iniziative non è facile assolutamente non è facile perché le esigenze sono infinite sono tante i temi sono tanti le necessità di adeguare le normative sono molteplici in questa particolare fase legata alla pandemia abbiamo visto anche quanto hanno pagato il prezzo anche i cosiddetti caregivers che sono sì riconosciuti ma non riconosciuti e che comunque insomma alla fine si fanno carico principalmente di tutta una serie di situazioni impegnative che vivono in famiglia con persone che hanno bisogno di assistenza e non hanno nessun tipo di contributo di sostegno economico per cui guarda non basterebbe una chiacchierata così bisognerebbe parlarne a lungo però mi fa piacere quando si può parlare del fatto che comunque la disabilità non è soltanto come dire assistenza e anche quello ma c'è tutta una fetta di persone di disabilità che possono essere una preziosa risorsa e per la società e per come dire la fetta economica del nostro paese certamente la figura del disability manager potrebbe cambiare molto anche l'approccio potrebbe aiutare guidare accompagnare in qualche modo le realtà ad adeguarsi a questo cambiamento perché oggi siamo poi nel 2021 purtroppo è vero che c'è ancora una fetta di persone con disabilità che si vergogna che vive un po ai margini che si nasconde che non esce di casa però è anche vero che la maggior parte ha alzato la testa e cammina in qualche modo chi con la sedia a rotelle chi come può chi con due gambe finte come me comunque ha petto in fuori e testa alta per dire io non ho nulla di cui vergognarmi va anche ricordato che nella maggior parte dei casi disabili lo si diventa nel corso della vita non sempre si nasce e quindi serve sicuramente anche qualcuno che è in parlamento tenga riflettori accesi servono delle opportunità anche come questa che state offrendo voi oggi di parlare di mettere a confronto le realtà le idee e anche le criticità perché la politica possa farsi anche un buon esame di coscienza insomma un cambiamento culturale che deve interessare un po tutti no non solo le aziende le istituzioni però anche le persone tu dicevi effettivamente spesso devono forse prendere coscienza del fatto che non hanno niente da nascondere e anzi hanno dei diritti e vale la pena farli valere e da questo punto di vista non so se hai avuto modo di vedere è stata adesso pubblicata la nonna relazione che ha fatto il parlamento sull'attuazione della legge 68 del 99 che è quella che si occupa dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e c'è stato comunque secondo quello che riporta alla relazione un trend positivo di crescita comunque degli avviamenti e delle assunzioni a cosa pensi sia dovuto forse è un inizio del cambiamento culturale che cui parlavi prima oppure qualcosa sta insomma volevo delle tue riflessioni su questo guarda penso qualcosa sta cambiando certamente però non lo so sarò di parte ma io sono anche convinta che in qualche modo lo sport abbia contribuito anche tanto perché ha dato la possibilità ecco io forse sarò di parte perché sono un'atleta paralimpica però devo riconoscere che attraverso le nostre storie le nostre imprese di atleti attraverso la sensibilità attenta di giornalisti che hanno raccontato le nostre imprese la gente ha cambiato anche un po più l'approccio ha iniziato a guardare anche le persone con disabilità non come qualcuno che in qualche modo porta con sé una sorta di malattia contagiosa non so faccio un esempio forse banale ma che rende bene l'idea io ho avuto l'incidente 15 anni fa e fino a 10 12 anni fa quando andavo al mare ad esempio e sostituivo le mie gambe o toglievo quelle che uso per andare al mare per svuotarle dall'acqua e la gente si guardava un po si girava a guardare anche un po con sospetto con imbarazzo e addirittura io ricordo di una mamma che ha coperto gli occhi alla bambina perché non guardasse come se io fossi un mostro che chissà che cosa avessi potuto mai trasferire alla figlia e forse quello è stato anche il giorno in cui ho deciso proprio di non vergognarmi perché ritengo sempre che si debbano vergognare i delinquenti i ladri gli assassini non chi come me vive con una disabilità o perché nel corso della vita per via di un incidente o di una malattia si è trovato catapultato in quello che io vogliamo definire il popolo degli invalidi però attraverso le mie imprese se vogliamo no poi io sono una che comunque ha sempre amato le sfide attraverso le mie imprese agonistiche con l'atletica con lo sport attraverso il fatto che devo dire anche la televisione ha inciso molto io ho partecipato e vinto ballando con le stelle è stata una trasmissione per me molto complicata però quello è stato un fanalino importante un riflettore perdonami un riflettore importante perché oggi a distanza di anni mentre prima in spiaggia c'era una mamma che copriva gli occhi alla bambina oggi a distanza di anni sono i bimbi che mi riconoscono e dicono ai genitori quella lì è la ballerina quella lì è l'atleta e vengono a chiedermi la foto piuttosto che l'autografo oppure oppure non so i genitori vengono a chiedermi una dedica per il proprio figlio perché mi ha seguito ecco è stato anche importante secondo me in quest'ultimo decennio il tipo di messaggio che è stato anche trasferito fuori no se nel nostro piccolo qualcuno io nel mio piccolo piuttosto che altri siamo riusciti in qualche modo anche ad aiutare a un cambiamento culturale nell'approccio alla disabilità io ne sono ben contenta però ecco che è stato prezioso l'intervento dei media ecco che diventa uno strumento prezioso anche per veicolare i messaggi lo sport perché attraverso questo la gente ha imparato a guardarci non come poverini ma come wow guarda cosa riesce a fare hanno imparato a comprendere che molti di noi così come tutti anche chi la disabilità non la vive siamo siamo diversi e forse anche per questo è bello no che ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse delle diverse abilità ecco cosa fa il disability manager aiuta a tirare fuori quelle diverse abilità aiuta comunque a sottolineare quello che tu sei in grado di offrire non pone l'accento sul limite ma pone l'accento sulla sulla grande opportunità che tu puoi rappresentare e secondo me in questo ripeto forse sarò di parte però certamente lo sport ha aiutato anche ad accompagnare in qualche modo la gente a guardarci con occhi nuovi e diversi c'è ancora molto da fare siamo ancora molto indietro rispetto a tanti altri paesi ragioniamo ancora purtroppo anche in maniera anche un po' provinciale passami il termine anche nelle grandi strutture spesso ti rendi conto nelle infrastrutture a volte si fa purtroppo per ignoranza per distrazione per leggerezza si creano ancora barriere architettoniche che non dovrebbero esistere ma io parlo banalmente non lo so mi vengo a dire senza parlare del gradino della rampa piuttosto che dell'abuso che viene fatto spesso per strada dei parcheggi per le persone con disabilità che vengono utilizzati un po' come se fosse il carico scarico no con la gente che dice vabbè l'ho lasciata lì cinque minuti ma cinque minuti la lasci sul carico scarico non nel parcheggio come dire dedicato a chi è come dire possiede pass per parcheggiare ma quello è proprio un approccio culturale per cui c'è ancora molto da fare ma banalmente io ricordo dieci anni fa sono stata quindi parliamo di dieci anni fa non di una vita fa ma dieci anni fa in spagna dove io andai con la nazionale per delle gare mi trovai comunque in un albergo e girai per la città mi trovavo a Valencia gli ascensori parlavano tutti erano tutti ascensori parlanti che ti dicevano che piano eri che la porta si apriva che la porta si chiudeva addirittura i tasti dell'ascensore avevano già il braille cosa che comunque qui in Italia ancora oggi è un'utopia perché non sono tutti così ci sono tantissime stazioni le metropolitane che sono totalmente inaccessibili addirittura anche in stazione spesso si fa si ha difficoltà insomma ma ancora c'è molto da fare io penso che difficile non voglia dire impossibile questo è un po la mia frase dell'anno che continuo a ripetere penso che voglia dire semplicemente difficile e quindi bisogna semplicemente lavorare con più determinazione con più forza e anche con più trasversalità per poter dare un'accelerata a questo cambiamento culturale necessario che possa agevolare l'inclusione anche lavorativa e le persone con disabilità perché alla fine si parla tanto anche no delle pensioni di invalidità quanto sono basse quanto non sono date ma è vero è vero bisogna comunque intervenire anche in quello certo lo Stato purtroppo non può moltiplicare le pensioni di invalidità per tutti quindi sarà secondo me un cambio graduale ma che comunque prima o poi avverrà e già l'abbiamo visto sta già avvenendo in realtà però le persone nella maggior parte dei casi non chiedono sussidi chiedono innanzitutto rispetto chiedono dignità e chiedono opportunità perché c'è tutta una fetta di persone con disabilità che vuole lavorare che cerca una vita autonoma indipendente che non vuole chiedere aiuto che non vuole niente da nessuno che vuole semplicemente la possibilità di poter vivere in una società inclusiva che comunque lo accoglie e non lo discrimina come se fosse uno con una malattia contagiosa sì sì è vero è assolutamente vero soprattutto i ragazzi più giovani vogliono disperatamente lavorare ed essere trattati comunque come tutti gli altri perciò questo è sicuramente un dato importante è anche importantissimo quello che hai citato tu cioè il ruolo che ha avuto lo sport in tutto questo e che comunque continua ad avere tra l'altro c'è stata ultimamente proprio una riforma molto importante alla quale so che tu hai contribuito che è stata la riforma Spadafora insomma volevo parlarne un po' con te perché penso che abbia importanti risvolti anche dal punto di vista dell'inclusione lavorativa degli atleti paralimpici ma guarda allora io devo confessare così come premessa di non essere una particolare fan di questa riforma per tutta una serie di criticità che comunque presenta per il mondo sportivo e di questo se ne è ampiamente parlato e discusso anche nelle audizioni in commissione insomma sono emerse delle criticità proprio dalla voce di chi lo sport lo vive tutti i giorni però non posso non riconoscere che c'è questo capitolo importante che riconosce finalmente pari opportunità agli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e corpi dello Stato ed è e nasce da una mia iniziativa legislativa da una proposta di legge che io avevo depositato nel 2019 proprio perché c'era questa norma che andava modificata nel senso che provo a spiegarlo in maniera facile per chi non è come dire dotto sul tema ecco per entrare nei gruppi sportivi militari di polizia e corpi dello Stato bisogna comunque fare un concorso e c'era una norma per cui tu comunque dovevi essere di sana e robusta costituzione in qualche modo quindi bisognava buttare giù questo muro legato alla sana e robusta costituzione che impediva agli atleti con disabilità di essere pienamente in qualche modo arruolati io dopo più di un anno di lavoro sono riuscita a trovare il modo di mettere insieme di mettere d'accordo tutti un'iniziativa che è diventata trasversale e questo mi piace proprio sottolinearlo perché tanti colleghi appartenenti ad altri gruppi politici l'hanno sottoscritta e l'hanno sostenuta quindi stava prendendo un'accelerata e quando l'ex ministro Spadafora iniziava a lavorare sulla riforma dello sport decise comunque di inglobarla e di inserirla all'interno di questa riforma e devo dire che anche poi con un gesto di fair play mi ha riconosciuto anche l'impegno di questa iniziativa e sono felice perché dobbiamo spiegare bene cosa cambia adesso mentre prima gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi erano in qualche modo in forza per via di un protocollo d'intesa stretto tra i gruppi sportivi e il comitato paralimpico che da anni cerca di sensibilizzare anche la politica su questo tema però bisognava modificare una norma poiché loro non avevano riconosciuto un contratto dei contributi, uno stipendio, delle tutele sanitarie e quella preziosa possibilità al termine della carriera agonistica di poter scegliere se prendere servizio all'interno del corpo di appartenenza o del ministero di competenza cosa che invece viene riconosciuta agli altri atleti quelli cosiddetti normodotati per cui tanti correvano sì con la maglia dei gruppi sportivi ma sostanzialmente utilizzavano le strutture avevano un supporto tecnico ma non si vedevano riconoscere questi diritti con questa norma adesso avranno finalmente adesso chiaramente spieghiamo che c'è un tempo tecnico perché questa norma vede effettivamente la luce però speriamo tutti entro l'anno che poi è pure l'anno olimpico e gli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e corpi dello Stato si vedranno finalmente riconoscere questa opportunità faranno un concorso, saranno assunti non si parlerà probabilmente di reclutamento si parlerà di contratti di collaborazione ma va bene anche questo è un cambiamento comunque graduale ma è intanto una grande opportunità che gli atleti possano essere stipendiati possono avere dei contributi possono avere delle tutele sanitarie esattamente come gli altri anche perché quando si portano le medaglie a casa è lustro per la nazione ma è lustro anche per il gruppo sportivo e quindi è giusto che anche quell'impegno sia riconosciuto economicamente tanto quanto avviene con gli altri atleti e poi certo la possibilità di lavorare alla fine della carriera questa è una cosa importante certamente un atleta che sta nelle fiamme azzurre alla fine non andrà a fare il poliziotto penitenziario però può lavorare sia come figura tecnica se c'è lo spazio o può lavorare in ruoli amministrativi e così avverrà anche per le fiamme oro le fiamme gialle per i militari insomma per tutti coloro che decideranno di aprire le porte agli atleti paralimpici ecco questa cosa la spieghiamo non è un obbligo ma è nel momento in cui il gruppo decide di aprire la porta è un obbligo garantire lo stesso trattamento che viene garantito agli altri atleti cosiddetti normorotati scusa se ti ho rubato qualche minuto in più però penso che questa cosa andasse ben spiegata perché molti lo hanno compreso solo in parte e devo dire che io l'ho definita un cambio culturale epocale sono felice del fatto che in qualche modo questa iniziativa normativa veda il mio nome nel suo DNA non sarà mai la legge Versace ma il suo DNA porta il mio nome io sono felice del fatto che come dire ho prestato il mio volto alla politica per tenere i riflettori accesi su tematiche che altri non reputano prioritarie e se in qualche modo il mio lavoro il mio impegno può servire per cambiare la vita e meglio le altre persone e questo dà più forza al mio mandato parlamentare e non può che anche inorgogliermi per quello che faccio anche se è stata dura e continua ad essere dura perché c'è ancora molto da fare però è un'iniziativa culturale un cambiamento importante veramente importante anche perché lo sport ricordiamo che è anche un articolo c'è un articolo dedicato nella Convenzione ONU del 2006 dei diritti delle persone con disabilità e parla del diritto allo sport c'è tutto un articolo dedicato a questo e invece noi per esempio il diritto allo sport non ce l'abbiamo neanche in Costituzione se vogliamo No, no, assolutamente sono d'accordo con te è un grandissimo cambiamento è una grandissima opportunità è un grande passo comunque verso una parificazione in effetti dei diritti e delle opportunità che possono incontrare le persone con disabilità da questo punto di vista quindi io ti ringrazio tra l'altro scusa mi aggiungo solo al volo che bisogna non ricordare che lo sport è un preziosissimo strumento educativo è un prezioso strumento educativo ma anche ti insegna secondo me soprattutto il rispetto delle regole il rispetto per te stesso il rispetto per gli altri viviamo in un mondo dove si fa in gara a chi affossa prima l'altro in realtà come dire quando io sono in gara devo vincere contro il mio avversario ma che è un avversario non è un nemico e purtroppo anche il popolo del mondo dei social ha un po' come dire anche in qualche modo alterato questo tipo di di realtà si scatena un odio a volte così gratuito che fa davvero paura quindi quanto più le persone con disabilità sono sono come dire incluse nella società nel mondo del lavoro tanto più ne giovane alla società stessa no ma lo sport tra l'altro è anche un momento molto importante da quel punto di vista verso l'emancipazione delle persone con disabilità ci sono vari studi che hanno dimostrato come a più livelli e rispetto a varie disabilità chi fa sport poi ha più facilmente accesso a una carriera universitaria e a una carriera lavorativa rispetto a chi invece resta fuori da questo e purtroppo tra l'altro ancora oggi tanti ragazzi con disabilità o bambini con disabilità vengono tagliati fuori dal mondo dello sport a cominciare dalla scuola io ho sentito tanti casi di bambini a cui viene addirittura impedito di fare l'ora di educazione fisica ma sai quello secondo me torniamo al punto di prima in questo anche la politica deve comunque farsi un esame di coscienza serve anche aiutare in qualche modo un cambiamento proprio strutturale nell'istruzione a scuola cioè l'ora di educazione fisica non può essere vista come l'ora d'aria no? è proprio educazione fisica e tante persone con disabilità possono comunque assolutamente svolgere delle attività forse in maniera diversa no? ma quello serve che gli insegnanti che i docenti siano anche più formati serve maggiore formazione anche per loro perché più delle volte questa sorta di discriminazione non sorge per cattiveria ma per pure ignoranza ignoranza poi permettimi di dire non nel senso offensivo del termine ma nel senso reale del termine di conoscenza sì ma purtroppo questo è un problema anche poi spesso delle famiglie che non sanno di avere dei diritti a disposizione da far valere e quindi ogni tanto si trovano costrette a subire dei comportamenti o delle iniziative che però non sono giuste o non sono legali comunque permettimi di lanciare un messaggio a tutti diciamo come dire agli amici che ci guardano e che seguono la legge non ammette ignoranti si dice no non possiamo più puntare il dito e dire ah doveva farlo lui doveva farlo l'altro ma io non lo sapevo io non lo sapevo non è più ammesso potevamo in qualche modo ammetterlo fino a poco tempo fa ma adesso con internet con la globalizzazione non puoi non sapere certe cose quindi bisogna essere curiosi affamati bisogna indagare approfondire leggere informarsi e non soffermarsi sui titoli su un post su un tweet su una foto bisogna approfondire bisogna informarsi anche perché guarda io lo vedo nel quotidiano anche con la mia attività politica tante volte la gente mi scrive ah ma tu stai lì come se io avessi la bacchetta magica dovevi fare questo non l'hai fatto e magari sei mesi prima avevo appena presentato qualche interpellanza piuttosto che a un orario del giorno qualche iniziativa in Parlamento ma se la gente non approfondisce non sente non ascolta perché c'è anche questa differenza tendiamo a sentire a non ascoltare dovremmo allenarci di più proprio all'ascolto e questo in realtà è in qualche modo un rimprovero che faccio come dire alla politica a volte anche a me stessa che per velocità probabilmente si tende ad essere in qualche modo un po' superficiali ma se con attenzione con sensibilità a tutti quanti noi approfondissimo un po' di più i temi non ci sarebbero più alibi non si può dire io non lo sapevo ho dovuto aiutare un ragazzo per fare l'esempio banale a cui un ufficio dell'aslo negava la protesi per andare al bagno scusami si chiama protesi da bagno è la protesi che viene utilizzata tante volte per farsi la doccia in piedi un amputato di gamba a volte no non puoi entrare in acqua con la stessa gambina che usi per camminare cioè una protesi apposta che in gergo si chiama protesi da bagno e si utilizza per farsi la doccia ma si utilizza anche per andare al mare questo ragazzo di 20 anni gli è stata negata perché allo sportello gli hanno detto che non gli toccava per andare al mare ma questa è la cosa più stupida che io abbia mai sentito perché la protesi da bagno è proprio talmente base è quella base che forse è una delle poche cose che davvero in effetti che il servizio sanitario copre e concede per cui ho dovuto come dire aiutare questo ragazzo invitandolo a tornare presso quell'ufficio e a dire che a lui la protesi serviva perché a 20 anni si voleva fare la doccia in piedi da solo senza chiedere aiuto a mammina lui ingenuamente andò a chiedergli la protesi per andare al mare quella gli ha risposto di no è tornato indietro gli ha chiesto la protesi per farsi la doccia in piedi e gli ha risposto di sì peccato che è la stessa capisci ci troviamo davanti anche presso gli uffici pubblici gli sportelli dedicati servirebbe maggiore attenzione e maggiore formazione quindi guarda la nostra chiacchierata forse è un po' deviato su altri temi ma non basterebbe mezz'ora per approfondirli tutti c'è molto da fare però io sono convinta che con l'impegno di tutti la sensibilità giusta le cose gradualmente possono cambiare voglio essere positiva anche noi vogliamo essere positivi io ti ringrazio comunque anche per tutto il tempo che ci hai dedicato tutte le tue riflessioni sono estremamente interessanti e per aver comunque lanciato anche questo messaggio di positività insomma per il nostro futuro grazie grazie mille spero ci rivedremo presto eh magari in presenza chi può dirlo dai grazie mille a te e a voi grazie grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te